Ed eccoci qui, oggi sono con un atleta speciale che ci rappresenta molto molto bene all'estero. Sono qui con... Tina Angelini Eccola qui Mi chiamo Tina, sono un'atleta della Nazionale di Pesistica Italiana, ho 17 anni e mi alleno da 5 anni circa. L'obiettivo è fare il meglio possibile, quindi fare 6 su 6, fare una bella gara, divertirmi come al solito e ovviamente speriamo di far medaglia però. L'importante è dare sempre il meglio per me. Ha accettato la sfida di allenarsi con me, me l'ho dato carta bianca, ho detto come vuoi morire oggi e ha scelto? Le gambe. È stato coraggioso, cioè dire che su 10 ragazzi 10 rifiutano di fare le gambe con me. Ma come? Eh, invece lei proprio si è tuffata per fare questo allenamento di gambe con me e quindi mi ha dato carta bianca. Come ben sapete a me piace testare e provare dei powerlifter, lei già mi ha corretto, weightlifter, giustamente. Nel powerlifting le gare sono composte da 3 alzate, di cui ogni alzata ha 3 prove, cioè squat, panca e stacco. Mentre noi nella pesistica abbiamo 2 alzate, ogni alzata ha 3 prove, stessa cosa. La differenza la fa semplicemente che il mio sport è uno sport olimpico e il bilanciere va a finire sempre sopra la testa. Mentre nel powerlifting sono alzate un po' più statiche. E vedere loro come spingono con un allenamento impostato per il bodybuilding però avendo la loro forza. Voi la vedete così però lei realmente sposta più carichi del 90% dei ragazzi e pesa solo? 49 kg. 49 kg che sposta 100 kg così come se niente fosse, quindi il doppio del suo peso corporeo. È come se io facessi un qualsiasi esercizio a 200-210 kg, giusto? Sì, sì. Ok, ora vediamo però nel mio mondo, nel nostro mondo come se la cava. A me piacciono le cose difficili, quello. La discussione. Vuoi far vedere almeno gli esercizi di mobilità che fai? Così almeno non ti faccio partire del tutto a fredda, ti fai le tue cose e poi partiamo, ok? D'accordo. Vai. Tanno, tu quanto tempo ci dedichi alla mobilità? Ma solitamente se faccio due allenamenti, il primo allenamento lo dedico una mezz'oretta alla mobilità. Mizzura. Esatto. Il secondo invece un po' di meno perché sono già un po' più attiva. Sì. Perché alla mattina sono molto rigida. Tu stamattina già ti sei allenata, giusto? Sì. Hai fatto la mobilità o no? Sì, sì. Lo fai sempre comunque. Qualcosina sì, ma la mattina di più. Ok. Io nel frattempo ci rifletto come ucciderti per bene. Ma di non riuscire a completarlo. Per il resto nessuna paura. Lo sai che questa è una cosa molto trascurata da tutti del mio mondo del bodybuilding? Sì. Male, male. Questa è una cosa proprio trascurata da tutti. Non capiscono poi quanto sia importante. Sì, sì, tra femorali e glutei. Sì. Poi anche lì lo psoas è molto trascurato come lavoro secondo me. Mi raccomando fate la mobilità sempre, sempre. Inizialmente il mio obiettivo vedendo il mio fratello powerlifter, fare powerlifting, era di perdere peso perché era un po' in sovrappeso, non stavo a posto con il mio corpo. Poi siccome nella mia palestra facevano anche pesistica, ho visto fare due strappi, due slanci che sarebbero snatch e clean and jerk e mi sono appassionata da lì ho continuato fino adesso. Guarda, per me possiamo cominciare. Sì? Sì, sì, sì. Hai fatto finta di fare mobilità? Sì, sì, ho fatto due, un po' volante così. Così, ok. Allora, visto che eri in ansia per fare l'hack squat, io direi di iniziare da quello. Come la viti? Per me va benissimo. Vai, passa da qua, poi ti spiego tutto pian piano. Settati bene, come riesci. Calcola, è la prima volta che lo faccio? Sì, 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 sì. Ora non c'è peso. Non hai mai fatto unhack squat? Mai, prima volta. Ora che facciamo? Facciamo giusto 3-4 serie, non al cedimento, per capire bene il carico. Poi una volta trovato il carico facciamo una serie pesante. Ok. Mettiamo 10 per volta. Comunque è bello, eh. Sento già, cioè si sente proprio... Vedi, già sta mettendo le mani davanti. No, no. Giustamente con lo sport che pratichi tu non arrivi quasi mai al cedimento. Esatto, mai. Mai. Solitamente chi lavora soprattutto sulla forza non punta ad arrivare al cedimento, proprio perché non serve, tra virgolette, noi che puntiamo ad aumentare la massa magra, quindi l'ipertrofia muscolare, arriviamo più spesso al cedimento. Ecco perché loro reggono così tante ore di allenamento, un volume così alto di allenamento, che lavorano maggiormente sulla forza. Non che sia facile, attenzione. No. Niente. Sempre sul divano a mangiare pane e nutella. Ok. Sì, sì. Lo pratichiamo anche noi. Perfetto. Io direi che il carico giusto sono 15 kg per lato. Ok. Lo settiamo e poi facciamo giusto 5-6-8 cubi. 5-6-8 cubi. Già, vedi che mi allargo. Quanto è il massimo che ha fatto una ragazza con te in questi esercizi? Penso che, allora, per una ragazza un buon carico qui sono più o meno i 20 kg al lato. Ok. Però considera che tutte le ragazze che l'hanno provato pesano comunque molto più di te. Quindi voglio dire, per il tuo peso è sempre un buon carico, anzi. Intanto mi sento in colpa che mi stai caricando tu tutto. No, vabbè, però ogni tanto ci sta, dai. Ti senti diverso dal macchinario rispetto al bilanciere? Allora, lo sento tanto sui quadricipiti. Sì. Mentre magari uno squat lo posso sentire un pochino più sul gluteo, sulla schiena, alcune volte sui femorali. Ci sta. E poi sento che proprio la traiettoria è guidata. È guidata, sei proprio legato. Esatto. Per te, sì. Immagino dopo cinque anni di squat qui con una tezza guidata ti senti... Sì, stranissimo. Facciamo una serie di quelle come si deve. Va bene. Poi devi solo ascoltarmi o cambierò i tempi sotto tensione. Quindi magari dirò scendi in quattro secondi, sali in quattro secondi e tu devi solo eseguire. Ok. E ti presenterò il cedimento. Te lo presento. Vediamo. Sull'hack squat lo so. Vediamo solo l'altezza. In preparazione a una gara ci alleniamo sei barra sette giorni su sette e tre barra quattro volte a settimana facciamo o due o tre sedute al giorno che possono durare un'ora barra un'ora e mezza. Mentre nei santi giorni facciamo singola seduta. Tanto ora ne facciamo giusto cinque colpi. Città. Quattro. Ok. Espira. Non bloccare. Scendi in quattro secondi. Contiamo uno. Brava. Due. Tre. Su. Ok. Scendi un po' più veloce. Uno. Due. Tre. Quattro. Brava. Un altro così. Però scendi tutto. Anche l'ultimo centimetro giù. Vai. Uno. Due. Tre. Su. Brava. Espira. Voglio che scendi per intero fino a giù e sali in tre secondi. Fai tremare le gambe. Vai. Scendi normale. Normale. Giù 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 giù. Sali piano. Brava. Brava. Così. Bravissima. Mantieni i talloni attaccati. Concentrati. Vai. Altre due così. Scendi normale. Fino a giù. Sali. Fai tremare. Non scappare. Non scappare. Brava. Un'altra così. Su. Brava. Fai tremare. Mantieni. Brava. Brava. Talloni. Ok. Cinque veloci. Insieme. Dai. Fino a giù. Completa. Bravissima. Uno. Brava. Due. Su. Tre. Su. Quattro. Su. Respira. Ok. Dieci secondi a scendere. Ferma giù e sali veloce. Vintiamo insieme. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Su. Brava. Nota così. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Su. Troppo veloce questa. L'ultima fatta bene. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Su. 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 Talloni. Brava. Respira. Respira. Tre veloci abbiamo qui. Sono due e tre. Dai. Non fa male. Su. Uno. Brava. Due. L'ultima. Su. 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 Bravissima. Blocca. Ok. Bello. 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 Sensazioni? Le gambe spingono tanto. Eh meno male se no stavi bloccato giù. Respira. Bello bello. Facciamo cambiare sport. All'improvviso. Molla tutto e tutti e si metto a fare un po' di fuggi. Bravo. Un'ottima serie. Vedi come riesce a esprimere tanta intensità. mentalmente non molla un atleta a prescindere dall'età. Quando si sa allenare mentalmente setta e viaggio come un treno. Giusto? Cioè fermarsi per te non era un'alternativa. Brava. Ora direi ci recuperiamo un bondanti tre minuti. Aumentiamo di cinque chili. Ok. Tanto vedi qui hai sparato ripetizioni a manetta. Sì. E facciamo l'ultima. Ok? Va bene. Tu se vuoi odiami però riposa nel frattempo. E poi partiamo la serie. Bellissimo questo. Bello eh. Questo coso. Questo coso. Questa coso imponente. Questo qui è simile però è più inclinato indietro. Ok. E quindi è molto più leggero. Ok. Tu come accusi 20 chili qui e qui non li accusi. Qui è molto più leggero. Va bene. Però questo non lo facciamo oggi. Made in USA. Quando è stata la tua ultima gara? La mia ultima gara è stata a luglio. Ho fatto l'europeo. Ah. Il giovanile. Ripreso da un infortunio di quattro mesi ho fatto argento totale. Bello. Sia strappo che totale. Bello, 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 bello. Però si punta a fare sempre di più perché l'argento non è mai... Non è un bel colore dici tu. E con la dieta come ti gestisci? Perché tu hai una categoria di peso pure, giusto? Esatto. Allora, ultimamente sono sempre stata diciamo un po' sotto al peso. Ho avuto un periodo un po' di stress forte quindi ho fatto fatica a prendere peso. Mangiavo un pochino poco. Adesso mi sono affidata a un nutrizionista e piano piano stiamo cercando di riequilibrare tutto. Ma tu hai un limite di peso o per ora solo l'età? Fuori gara posso pesare fino a un chilo e mezzo sopra circa. Ok. Quindi arrivare a pesare 50 e mezzo, ora ancora sono 49. E mentre in gara basta che ho preso 49. Quindi faccio un paio di liquidi e rientro tranquillamente. Sei pronta? Sì. Dai, concentrati. Spariamo otto colpi e poi vediamo. Dai, convinta. Gravissima. Due. Su, bravo, guarda. Cinque, brava. Sei, sette. L'ultima. Brava. Ispira, ispira. Facciamo una discesa lenta, cinque secondi. Vai. Uno, due, tre, quattro. Su. Brava. Un'altra così. Uno, due, tre, quattro. Su. Bravissima. Un'altra. Uno, due, tre, quattro. Su. Brava. Su, su, su. Ok. Respira. Otto colpi. Abbiamo chiuso. Uno. Brava. Due. Tre. Dai. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Quattro. Cinque. Solo tre. Solo tre. Uno, due, tre. Brava. Due. L'ultima. Su. Bravissima. Ok. È andato. Bravo. Bello. Ehi, si accontenta. Contenta. Così ci dobbiamo allenare. Ora recupero un bel po'. Piccolo infortunio ma è una cosa posturale alla gamba che mi ha tenuto ferma a quattro mesi. Ho dovuto saltare un mondiale in cui avrei potuto fare bei risultati. Purtroppo è andata così. Passiamo a una bella leg press. Questa o questa qua? Questa. Allora questa qui è una leg press storica. È l'unica in Europa. Complimenti. Questa veramente ha un valore storico. Accomodati. Ok. Voglio togliere giusto 20 kg così ti spiego bene, bene, bene. Piedi sulla pedana. Nel momento in cui spingi devi girare questi all'esterno sia uno che l'altro. Ok. Questi sono quei fermi lì. Bravo. Così poi la pedana ha molto più roma. Gira. Così. Che pia. Ora scendi. Vai, 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 bravissima, spingi. Ok. Fai giusto un altro colpo così si senti bene il carico e l'attrezzo. Come lo senti? Questo meglio. Noi ora qui faremo delle ripetizioni complete e parziali. Quindi fai una completa, poi scendi, fai una metà, scendi una completa. Ok. Ok. Aspetta che aggiusti il carico. Aggiusto il carico. Eh, eh. Aggiusto il carico. Mi piace questo. Questo è una scusa per aumentare il carico. Esatto. Quindi completo, parziale. Fai così. Scendi tutto, poi sali a metà, poi scendi e poi sali. Ok. Scendi. Brava. E tutto. Ok, così. Quindi sempre così, alternato. Metà. Completo. Completo. Bravo. Alte tre così. Alte tre. Alte tre. Uno. Ok. Più di otto ripetizioni per te è tipo cardio, no? Sì. Cioè, è cardio. È come andare a correre. È come andare a correre. Sì, hai ragione. E i tempi di recupero a te sono lunghissimi, immagino, no? Dipende. Quando faccio strappo e slancio sono abbastanza brevi. Mentre scuote e stacchi che sono alzate di potenza un po' più lunghi. Tipo cinque minuti? Tipo due minuti e mezzo. Ah, ok. Vabbè, allora rientra nei miei canoni di recupero. Ok. Ci siamo. Allora, la ripetizione è corta. Cerca di farla ancora più corta. Ok. Quindi tu scendi tutto, fai così, un mini colpetto e poi una completa. Va bene. Ok? Bravissimo. Così. Uno. Due. Tre. Fallo bene però. Brava, così. Quattro. Ce l'hai. Sette, l'ultima. Su, su. Bravissimo, blocca. Come la senti? Questo è più semplice dell'AxQuote, sicuramente. Sì, sì, questo sì. Diciamo che ora ti faccio fare qualcosa di semplice così poi arriva quella, come si dice. Possiamo morire alla fine. Bravissima. Non fate queste cose col trucco agli occhi perché vi cecate. Che lo stai facendo ora? Però, telecamera. Ci sta. Quindi hai fatto otto con quel carico. Perfetto. Ora noi dobbiamo arrivare a 20 ripetizioni a piccole rate. Scegli te come farle. Puoi anche fare 5, appoggi, 5, appoggi. A me la cosa importante è che chiudi 20 ripetizioni. Ok. Ok? Complete però, senza quella piccola parziale giù. Quindi sono 20 normali. Bravo. Dieci. Giù. Giù. Quattro. Quattro. Diciassette. Diciotto. Solo due. Nove. È l'ultima. su, su, spingi insieme, 3, 2 1, vai, spingi spingi, spingi aspetta, recupera respira, facciamo insieme 1, 2, vai bravo bravo, questa è una cosa positiva per noi noi cerchiamo il cedimento quindi non la prendere come, ah non ce l'ho fatta cioè questo è l'obiettivo, però avevi capito che ti potevi fermare o no? no, bravo ottimo, mi fa piacere, meglio ancora io ho fatto finché non si spengono cioè potevi fare tipo 5, ti riposavi 2-3 secondi però è meglio così io viaggio, poi quello che succede questo è l'approccio giusto noi qua abbiamo finito mamma, tutto a posto sono qui sta bene ora facciamo una bellissima super serie di leg extension e affondo in camminato ok, i bulgarian da fermo li fai? si ok, noi li facciamo ancora più cattivi in camminato ok coi manubri no, paura no paura mai? paura mai che non mi scoppia un ginocchio qualche giorno no, no ma noi alla fine stiamo facendo carichi relativamente bassi quindi no, no mai l'ultima cosa che farei è mollare devo perdere una gamba per mollare tu soffri d'ansia poco prima di andare a fare l'alzata in gara? prima, i giorni prima della gara sì mentre quando sono in gara non pensi più a niente non pensi a niente cerchi di ficcarti sotto bilanciere e fare quello che puoi fare ma una domanda, un dubbio mio il carico diciamo che provi in gara sono carichi che tu hai già provato prima o ci arrivi pian piano? perché il carico massimale tu in allenamento mi sa che non provi quasi mai dipende, diciamo dipende un po' da come è andata la preparazione se arrivi in gara che hai fatto una buona preparazione potresti provare carichi che non hai mai fatto in allenamento ok mentre se, come è successo a me, veni da un infortunio cerchi di non spingere il corpo oltre se non è preparato a farlo durante l'allenamento? durante la gara anche durante l'allenamento però si cerca di fare il meglio per arrivare in gara sani diciamo però sempre da ignorante ti chiedo tu quando affronti un carico in gara perché c'è il dubbio di riuscirci o meno se dovrebbe essere un carico io non l'ho mai fatto un massimale io la gestisco che vado lì e non ci penso che è un carico nuovo cioè vado lì e dico devo fare l'alzata mi serve e faccio quello che mi piace di più poi nel caso non dovesse riuscire siamo atleti e siamo anche qua per sbagliare poi ti alleni per riuscirci giustamente esatto, sempre aumenta giusto di 3 bravo così, non ha letto bravo nemmeno io leggo io metto dove arrivi il braccio questo è l'approccio giusto 65 fanne giusto 2 vedi se il carico per te ci sta è un po' pesante ok scala allora lascia come stava prima ci servono 10 colpi tranquilli com'è? ok ce l'ha controlla un po' di più la discesa su bravo perfetto 7 8 9 l'ultima ok andiamo di là ti ho preparato i due manubri girati di qua affondo in camminata andate e ritorno bravo perfetto bravo vai 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 altri 4 1 2 vai che ce l'hai butti i manubri e continua attenzione continua senza i manubri 1 2 ok ora squat parziali eh lo so mi stai odiando hai ragione vai bravo 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 3 fino a 12 senza fermarti continuo 4 bravo 5 6 lo so che brucia lo so che brucia 8 9 fino a 12 10 11 e 12 ma sai che non pensavo così no no come pensavi pensavo di rimarci un po' più tranquilla no perché ti blocchi all'improvviso ti attivuora andavi liscia all'improvviso i quadricipoli si blocca eh lo so eh questo ci sa ti faranno male i quadricipoli va bene ora ci riposiamo 2 minuti abbondanti e facciamo altre 2 serie così però regge eh voglio dire tutti i ragazzi che schifano il leg day voglio vedere qui a fare la stessa cosa ma sono due mondi diversi è come se tu ora mi metti a fare le tue cose io non ce la faccio a fare niente cioè alla fine io sono allenato per questo tu sei per quello quindi ci sa il contrasto perciò è bello vedere questo video perché alla fine comunque reggi è che mentalmente l'approccio è diverso i muscoli non sono proprio abituati a tenere quello non sono abituati ma anche a fare così tante ripetizioni per te è oltre che cardio è un lavoro del tutto diverso però è bello loro questo vogliono vedere voglio vederti morire così si si sta riuscendo ci sta dai ci facciamo un'altra così ora aggiustiamo un pelino in carico in meno lì quindi puoi abbassare di uno che odio totalmente le spinte il jerk sarebbe perché mi venne proprio male sempre 10 colpi con la negativa mantenendo brava scendi un po' di più bravo 4 8 9 mantieni su resta ferma resta ferma resta così brava 10 8 resisti 7 resisti 6 5 combatti 4 non far scendere 3 brava 2 1 ok bravo andiamo tutta l'andata con i manubri poi lasci i manubri e fai il ritorno senza se vuoi puoi anche fare i passi un po' più lunghi così sfruttite più i glutei bravo bravissima dai che ce l'hai brava vai l'ultima butta ritorna brava ci stai ce l'hai ce l'hai ce l'hai altri 3 solo 1 2 e 3 10 scuoto parziali e ci siamo non iperestendere mai quindi resta sempre in tensione ti metto la mano qui così ti faccio da fermo vai scendi bravo 1 2 bravissimo 3 4 5 solo 5 4 3 2 1 bravo sta finendo bello qui abbiamo fatto un allenamento focus sui quadricipiti volutamente non ho voluto fare il classico allenamento femorali, glutei, slancio ai cavi, hip thrust e altre cose più focus sui quadricipiti va bene? così la uccidevo prima mamma mia complimenti perché ci sei riuscito no, quello era l'obiettivo tipo i bilancieri da crossfit c'ho solo questo angolo qui quelli che vedi è quello là è già attrezzato proprio benissimo sì, c'è questo anche se non li faccio l'ho voluto comunque attrezzare benino bello, bello ce sa meno male che è un home gym eh sì ci chiudiamo qui e ci alleniamo facciamo l'ultima? sì lì facciamo l'ultima a morire vai inizia con 8 normali 1 bravo 7 mantieni mantieni bravo mantieni così non far scendere combatti bravo così così 5 4 3 2 1 vai giù parziale fino a qui bravissima 9 8 7 6 vai 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 ci sono ci sono 5 4 3 2 1 bravo ora mantieni un solo manubrio lo tieni su così si va bene perfetto bravo bravo 4 5 6 altri 2 così come sai scuota vai bravo 1 2 bravissima 10 3 4 5 4 3 2 butti manubrio continuo abbiamo fatto 10 9 8 7 6 5 solo 5 4 3 2 1 bravissima bravo ce l'hai fatta si un feedback così a freddo proprio no però a caldo allora molto faticoso più faticoso di quello che mi aspettassi da pesista dico che non bisogna sottovalutare i bodybuilder sicuramente fate un bel lavoro di resistenza e di forza questo è stato un allenamento a livello ipertrofico come ben sapete ci conviene lavorare su 8 12 ripetizioni con un carico alto però siccome questa tipologia di lavoro con un tempo sotto tensione maggiore loro non sono abituati ho voluto comunque portarvi qualcosa di diverso soprattutto per vederli sotto pressione lo so che prima o poi capiterà che dovrò anch'io trasferirmi al vostro mondo e lì farò una figuraccia lo so già ma no però ci sa è stato un bellissimo allenamento lei considerando la giovane età che si allena comunque da 5 anni che non è che sono tantissimi per lei sono tantissimi per l'età che ha però 5 anni ha retto molto 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 bene l'allenamento sicuramente meglio di quanto tantissimi ragazzi reggirebbero proprio 100% sono molto soddisfatto bravissima anche io grazie bravissima mi raccomando seguitela su TikTok su Instagram Tina Angelini grazie se vi è piaciuto questo video sapete già like iscrivetevi al canale un abbraccio anabolico ciao